Guardate, generalmente quando entro una trega c'è la cosa che vuole una bravo, tu non puoi fare voi, poi non puoi fare la mia, ecco lì, secondo me il punto di vista che è un periodo, se lo vedete, i ragazzi stivano, e i buoni generati, ecco, ora, in quelle che sono le loro posizioni tattiche, noi siamo pronti, e allora a voi, eyes on fire! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!